Ciao a tutti e a tutte, oggi parliamo degli antidepressivi. Gli antidepressivi, come possiamo immaginare, sono dei farmaci utilizzati per il trattamento dei disturbi depressivi. Ovviamente la depressione è una condizione che può manifestarsi sotto diversi aspetti. Ci sono varie classificazioni. Tra disturbi depressivi più conosciuti abbiamo il disturbo depressivo maggiore, in cui troveremo uno o più episodi depressivi maggiori. Quindi nell'arco di una giornata, per rendere idea, il paziente avrà un umore depresso. Distimico, invece, è quel disturbo depressivo che si ha quando l'umore del paziente è spesso depresso, quasi ogni giorno, quindi, e ci sono disturbi particolari, e poi ovviamente non entriamo in dettaglio, chiamati depressivi NAS, cioè altrimenti specificati. Quindi, in linea generale, chi ha una depressione può, appunto, avere un umore depresso, bassa autostima, ovviamente ci può essere una perdita di peso o un aumento di peso, pensieri suicidari. Di solito le donne sono più soggette alla depressione, anche per varie motivazioni, tra cui, per esempio, post-abusi, oppure per l'anoressia, appunto, che può essere una morbidità, ma anche negli uomini può essere presente, ovviamente. Per quanto riguarda, invece, altre situazioni possono essere soprattutto eventi stressanti e la genetica, perché anche nei disturbi depressivi è stata ritrovata proprio una correlazione di tipo familiare. Quindi, andando un po' più su quello che ci interessa nell'ambito farmacologico, teniamo conto che ci sono state diverse teorie che hanno voluto spiegare il motivo per cui c'è questo disturbo. Tra le teorie più accreditate abbiamo la catecolaminergica, o anche chiamata monoaminergica, sostanzialmente, ecco questo disegnato il cervello, a livello limbico e a livello corticale ci sarà una riduzione delle catecolamine, quindi adrenalina e noradrenalina, anche calo della dopamina e della serotonina. Quali sono le evidenze che hanno affermato queste ipotesi? Per esempio, un farmaco molto importante che è il reserpina, nel passato veniva usato, ma comunque può essere utilizzato, come antipertensivo. È stato visto che come effetto collaterale, la reserpina dava repressione, perché, per esempio, abbassava soprattutto i livelli di noradrenalina, dopamina e serotonina. E anche interveniva su un'inibizione del trasportatore Vumat. Altra evidenza è stata data da un altro farmaco, utilizzato per la tubercolosi, che invece è il liproniazite, che dava euforia nei pazienti che prendevano questo farmaco. Oppure, altra conferma è data dal fatto che gli triciclici, che poi vedremo dopo, possono portare a un aumento delle monoamminossidasi. Ci sono dei limiti, ovviamente, perché non tutti i pazienti che prendevano la reserpina sviluppavano una depressione, e ci sono dei farmaci anche, che vengono molto utilizzati, e che sono anche usati da tanto tempo, che sono gli stabilizzatori dell'umore, il litio in particolare, che ha un effetto sui sintomi, ma non agisce sul sistema catecolaminergico, quindi non viene accreditata in questo caso la teoria catecolaminergica. Un altro dato importante, soprattutto a livello clinico, è che quando, vedremo adesso un grafico, quando praticamente somministriamo questo farmaco, l'effetto del farmaco, cioè il farmaco subito ha un effetto, dal punto di vista farmacodinamico, ma l'effetto clinico poi ci vuole, diciamo non è così immediato, ci vuole un po' di tempo, qualche settimana, almeno un paio di settimane, affinché si verifichi un effetto clinico. Perciò è stata avanzata anche un'altra seconda ipotesi, che è quella dello sprouting, cioè neurotrofica, in particolare nella depressione ci sarà un'alterata plasticità neuronale, quindi questa plasticità è un fenomeno di rimodellamento, e in particolare viene a mancare una corretta produzione di un fattore neurotrofico che favorisce la plasticità, che è appunto il BDNF. Poi è importante anche un'altra teoria, quella endocrina, correlata, vede a livello ipotalamo ipofisario, una disregolazione della produzione del cortisolo, a livello anche della disregolazione a livello della tiroide, degli ormoni di Rodei, quindi T3 e T4, e a livello sempre endocrino, disregolazione a livello degli steroidi sessuali, ormoni steroidi sessuali. Quindi, per esempio, nelle donne si sviluppano, c'è un rischio di sviluppo di depressione postpartum, proprio per una riduzione degli estrogeni, mentre alterrazioni comportamentali, quindi depressione, si può avere anche negli uomini, per una riduzione del testosterone. Dopo aver fatto questa introduzione, passiamo ai farmaci antidepressivi, quindi abbiamo diverse classi. Sono l'IMAO, poi vedremo quali sono i farmaci, magari nel dettaglio, che sono inibitori di monoamminossidasi, poi abbiamo i triciclici, gli SSRI, inibitori della captazione della serotonina, gli NRI, inibitori della captazione della serotonina e della noradrenalina, e poi ci sono dei modulatori della trasmissione serotoninergica e quelli modulatori della noradrenalgica e serotoninergica. Questo grafico è quello a cui accennavo prima, cioè vedete, questa curva in rosso indica che quando andiamo a somministrare un farmaco antidepressivo, le concentrazioni plasmatiche saranno subito elevate, cioè il farmaco dal punto di vista farmacodinamico agisce subito, mentre sul tono dell'umore ci vuole un po' di più, quindi circa qualche settimana. In linea generale possiamo dire che poi l'azione di questi farmaci è soprattutto sul NET, quindi sulla 5HT, e sul trasportatore della serotonina che sarebbe poi il CERT. Partiamo dagli inibitori delle monoamminossidati, quindi sono dei farmaci non tanto esati, sono stati scoperti, seguito come abbiamo detto prima, dall'idronezite, che era un farmaco la tubercolosi, e i pazienti avevano dei sintomi euforici. Dopodiché sono stati scoperti queste sostanze che inibivano la monoamminossidasi che si trova sulla membrana del mitocondrio, in particolare sulla membrana esterna, e ce ne sono due tipi. All'inizio, sono il tipo A e il tipo B, all'inizio avevamo, se vogliamo così dire, dei farmaci di tipo irreversibile non selettivo, ma, poi col passare il tempo, sono stati messi poi in commercio soprattutto degli inibitori reversibili contro le monoamminossidasi di tipo A, in particolare vedremo che quelle A sono principali, e anche c'è stata la produzione di farmaci irreversibili contro le monoamminossidasi di tipo B. Perché quelle di tipo A? Perché semplicemente, da come ho scritto qui, nelle monoamminossidasi di tipo A avremmo un effetto antidepressivo, mentre quelle di tipo B sono utilizzate per lo più nel trattamento del Parkinson, quindi sono altamente selettivi soprattutto per la dopamina. Quindi, siccome nel Parkinson c'è un'alterazione di tipo dopaminico, i B sono più indicati per questo. Allo stesso modo, dobbiamo tenere conto di un'altra cosa, che tra gli effetti collaterali, voi vedremo, soprattutto correlati a le monoamminossidasi, cioè gli inibitori monoamminossidasi di tipo B, quindi quelli irreversibili, abbiamo le crisi ipertensive, spesso perché ci sono dei pazienti che quando fanno un trattamento, ad esempio con questi tipi di farmaci, devono stare attenti a non ingerire tirammina, che è una sostanza contenuta, per esempio, nel chianti, il vino chianti, o in alcuni formaggi stagionati, perciò devono stare a dieta ferrea, perché l'aumento della tirammina porta ad un aumento delle catecolamine, quindi con una crisi ipertensiva. Quindi qui ho riscritto le monoamminossidasi e sono importanti perché per esempio sono degli enzimi mitocondriali che vanno a metabolizzare la serotonina tramite dei meccanismi di deaminazione ossidativa e le monoamminossidasi epatiche provoca deaminazione tramite monoamine circolanti o delle monoamine dietetiche. In particolare poi un'altra cosa ci spiega l'azione delle MAO-A e delle MAO-B quelle A vengono ad agire soprattutto sulla serotonina e sulla norepinefrina e sono espresse a livello del sistema nervoso centrale a livello cerebrale se vogliamo essere decisi e quelle tipo B invece vanno ad avere un'azione soprattutto sulla dopamina e sulla dirammina e verranno espresse a livello epatico. Vabbè questo è lo stesso i livelli di monoamminossidasi aumentano già dopo poche ore però l'effetto abbiamo detto terapeutico del farmaco dopo diverse settimane. Qui abbiamo un po' una panoramica degli effetti collaterali a livello vascolare abbiamo detto per l'ingestione di tiramina si può avere una crisi di tipo ipertensiva parossistica poi una cosa fondamentale i farmaci inibitori delle monoamminossidasi non devono mai essere associati a dei farmaci potenzianti della serotonina perché possono portare a una condizione chiamata sindrome serotoninergica che può addirittura portare al coma se il sovradosaggio può causare a livello centrale la soppressione del sonno REM della fase REM del sonno e a livello del tessuto di poso può portare a squilibrio metabolico con aumento di peso poi è importante anche a livello dell'apparato genitale perché praticamente come molti farmaci ansiolitici antidepressivi può portare a disturbi sessuali quindi è molto importante questa cosa perché spesso i pazienti possono rinunciare all'utilizzo di farmaci per questo motivo sono dei farmaci che li inibitori dell'emono amminossidasi per le loro azioni ormai di ultima scelta quindi vengono utilizzati laddove ancora vengono messe in commercio soprattutto per il trattamento della depressione severa adesso passiamo ai farmaci triciclici che sono dei farmaci di seconda scelta semplicemente si chiamano triciclici perché sono formati da tre anelli quindi la struttura portante è formata da tre anelli tra i farmaci abbiamo per esempio la mitriptilina l'imipramina per esempio o la clomipramina la loro scoperta è stata casuale sono degli ammine terziari che hanno un effetto combinato di ricattura della serotonina e della noradrenalina dal punto di vista farmacocinetico questi farmaci vengono somministrati per os ed hanno un assorbimento rapido dal punto di vista gastrointestinale e l'effetto clinico anche qui si manifesta dopo alcune settimane è importante ovviamente sapere il metabolismo questi farmaci hanno un ampio metabolismo a livello epatico e agiscono sulla sia inibendo l'uptake delle monamine ma vedete qui anche su sui recettori sono degli antagonisti dei recettori alfa 1 h1 serotonina h2 ht2a o 2c se non sbaglio e poi di tipo m che significa questo che bloccando questi recettori hanno tanti effetti collaterali e questo fa sì che siano dei farmaci di seconda scelta ecco idricicrici quali sono i farmaci scusate gli effetti collaterali di questi farmaci sono effetti antimuscarinici quindi spesso causano secchezza delle fauci ritenzione urinaria e tachicardia e quindi vengono controindicati nei pazienti con glaucoma anche nella demenza per esempio l'alzheimer se andiamo a somministrare gli antimuscarinici portano a un peggioramento della sintomatologia della malattia stessa di parkinson poi per esempio antistaminici danno sedazione effetti antiedrenergici con ipotensione ortostatica blocco dei recettori serotoninergici tipo c causando un aumento del peso oppure su altri recettori come l'alfa 1 e le M dando disturbi sessuali c'è un alto rischio anche di convulsioni ma soprattutto uno dei motivi per cui è considerato un farmaco che sono da scelta appunto sono le aritmie poi dal punto di vista della cardiaco perché anche bisogna stare molto attenti perché questi farmaci hanno danno soprattutto una tossicità cardiaca quindi una cardiotossicità per un blocco dei canali potassio h ergici quindi spesso dovuti al sovradosaggio passiamo agli SSRI per esempio la floxetina che è quello primo più utilizzato poi la paroxetina citarofram sono tutti farmaci comunque di cui si è sentito parlare vedete che differentemente dei ciclici non hanno una struttura a trenelli portanti questa è già la prima cosa molto importante da tener conto è importante poi il fatto che hanno un profilo basso di affinità per i recettori cerebrali quindi non danno degli effetti colletorali da interazioni recettoriali specifiche danno in un certo senso se vogliamo parlare in maniera comprensibile hanno meno effetti collaterali quindi infatti hanno la stessa efficacia dei triciclici o comunque migliori dei molto simile però sono migliori anche in termini di sicurezza e di tolerabilità quindi sono i farmaci più sicuri poi di solito ovviamente questo ha portato poi qui ci ho messo una piccola precisazione che è tutto questo questo fatto che è sicuro tolerabile però ha portato anche a un ampliamento della diagnosi di depressione che dal lato è una cosa veramente importante dall'altro però ci sono anche delle prescrizioni e degli abusi di questi farmaci ovviamente per ogni cosa buona ci può essere anche un risvolto negativo però comunque sono dei farmaci molto utilizzati sono dei farmaci prima scelta e possono essere anche utilizzati per la terapia a lungo termine dei disturbi d'ansia gli effetti collaterali sono soprattutto gastrointestinali quindi anoressia nausea diarrea però fortunatamente sono dei effetti collaterali più temporanei quindi dopo la sospensione ovviamente la condizione può migliorare poi danno insonnia disturbi sessuali sindrome serotoninergica se associate alle monominolossidasi e e poi ovviamente qui sì diciamo letteratura scientifica porta anche in aumento dei casi di suicidio soprattutto in questi diciamo pazienti che hanno che utilizzano questi farmaci poi abbiamo gli SNRI tra cui per esempio la venlafaxina più utilizzato ma anche la duloxetina e sono dei farmaci che hanno un'efficacia simile ai triciclici e agli SSRI però non hanno gli effetti collaterali dei triciclici ma gli effetti collaterali sono più simili a quelli degli SSRI poi per esempio abbiamo anche gli NRI che hanno un'efficacia antidepressiva sono dei farmaci che hanno dei leggeri effetti anticolinergici poi tra i farmaci più utilizzati qui forse non si legge bene comunque si chiama Reboxetina e poi abbiamo questi altri due i modulatori della trasmissione serotoninergica abbiamo degli antagonisti contro appunto i recettori serotoninergici HT2A e HT2C che però hanno un effetto lieve sull'inibizione della serotonina e della norepinefrina magari possono dare sedazione il farmaco più conosciuto è il traduzone poi ci sono dei modulatori invece della trasmissione serotoninergica e norepinefrina che bloccano anche dei recettori alfa 2 quindi aumentando il release norepinefrina e 5HT2A scusate ogni tanto mi impappio con questi nomi e poi abbiamo degli altri farmaci che sono penso tra più conosciuti penso che un po' tutti abbiamo sentito parlare dei sali di litio sono molto antichi se vogliamo così dire ma molto efficaci allo stesso tempo perché qui ho riportato poi i farmaci antiepilettici ora vi spiego perché allora il litio è un farmaco somministrato sotto forma di sali che però essendo un elemento chimico non può essere metabolizzato quindi ricordiamoci questa cosa perché magari all'esame possono chiedere se viene metabolizzato la risposta è no e viene utilizzato nel trattamento delle fasi maniagali acute e per la prevenzione delle sindrome bipolari nelle fasi maniagali guardate un po' qui che cosa c'è i farmaci antiepilettici che poi vedremo più in là sono la carbamiazepina e l'acido valproico che in linea generale agiscono a livello dei canali del sodio e guardate i trattamenti possono essere utilizzati per il trattamento nelle fasi acute maniagali proprio come il litio e per la prevenzione della sindrome bipolare nelle fasi maniagali quindi c'è una certa ugualianza per quanto riguarda questi farmaci sono molto vecchi ma allo stesso tempo non si conoscono i meccanismi tra le teorie più accreditate che diciamo nel passato ora se ne stanno cercando altre è quella che il litio interferisce con il metabolismo del fosfatidil inositolo bloccando la conversione dell'IP2 in IP1 e dell'IP1 in IP ovviamente non si forma l'IP3 in particolare ovviamente a partire dal IP2 però l'IP3 non si forma però questo effetto perché diciamo non è accreditato al 100% perché questo effetto si ha solo a concentrazioni veramente elevate che è diverso dalle concentrazioni che diamono a livello clinico o meglio per ottenere un effetto clinico quindi farmacocinetica è importante perché vediamo che è somministrato per os sotto forma di sale di litio di carbonato o glutammato e ha un assorbimento rapido gastrointestinale non lega le proteine plasmatiche e si concentra nel muscolo scheletrico nell'osso e soprattutto nella tiroide perché nella tiroide ci sono dei carrier che catturano lo iodio e quindi c'è una competizione con lo iodio a livello del liquor poi può presentare una concentrazione ematica pari al 50% non è metabolizzato viene scritto tramite le urine e viene filtrata a livello renale in particolare nel gromerulo il riassorbimento avverrà nell'80% a livello del tubulo prossimale con il sodio e l'acqua e nel 20% invece a livello delle porzioni distale del nefrone e poi verrà escreto effetti collaterali che poi li ho riportati qua soprattutto di questa cosa qui della filtrazione può essere l'aumento della diuresi osmotica quindi infatti tra effetti collaterali abbiamo la poliuria quindi con una ridotta concentrazione urinaria poi a livello cerebrale possiamo avere astenia sindrome extra piramidale e tremore a livello metabolico appunto come parlavamo prima può interferire con lo iodio o meglio con pete e causa ipodirodismo cozzo multinodulare e aumento ponderale poi può causare anche a livello cardiovascolare un aumento del tratto QRS spesso anche disturbi del nodo del seno materiale e per esempio causa nausea del rea rascio cutaneo e leucocidosi questa cosa è importante perché è l'unico farmaco l'unico perché gli altri farmaci che poi utilizziamo per esempio l'ansia sui disturbi proprio no dell'umore danno leucopenia mentre il litio dà leucocidosi e con questo diciamo è tutto per questa lezione